Il giro di B della Serie A2 di Hockey su pista sembra prendere una fisionomia ormai tutta a favore del Cgc Viareggio. Una vittoria che si è trasformata in goleada nel derby viareggino contro la Farma e Pumas Viareggio, superata per 9-0. Il 3-0 del primo tempo, con tre giocate di Rosi e di Mugna, che già mettevano le cose in chiaro, si trasformavano in goleada a metà della ripresa, complice un calo dei rosso-verdi dell'ex Mirko Bertolucci e delle belle parate di Pablo Gomez. 5 le reti di Mugna, sempre più stecca d'oro della 2, capocannoniere con 32 reti, poi Balisteri due volte Rosi e Falassi a completare il gol. Sempre tre punti sulla seconda, ora rimasta la rotellistica Camaiore con una gara in meno, mentre Pumas ora è a meno 6. La rotellistica Camaiore ha superato senza troppi problemi il Salerno, vincendo per 6-3, grazie ad un primo tempo di velocità e precisione, con il parziale di 5-0. Doppiette per Mattugini e Brunelli con singole di Alonso e Ninci. Il Versilia Occhiforte supera 5-2 il Sarzana, distanziandola ora 8 punti, mettendo un altro mattoncino sulla sua salvezza. Il Decano Maggi realizza due reti insieme a tre giovani Forte Marmini, Cacciaguela, Bicicchi e Giovannelli. Di Andreani e Tognacca, i ele reti dei ragazzi di Sergio Festa. Adesso, questo fine settimana, la Final Four di Coppa Italia con il Cdc Viareggio che punta a vincerla. Per la VUS Cup, dopo i ritorni dei quarti qualificati alla Final Four, il Sarzana vittoriosa sul Monza 6-3, Follonica che ha battuto 3-2 il Murches, eliminato il Valdagno. Per la VUS Cup, dopo i ritorni dei quarti qualificati alla Final Four, il Sarzana vittoriosa sul Monza 6-3,